Il progetto Keep the Beat è un progetto nato all'interno del Centro Studi e Formazione Gymnasium, che è un centro accreditato in comunità e ha come obiettivo la formazione in ambito rianimazione cardiopolmonare degli studenti e degli insegnanti, quindi del mondo della scuola, del personale della scuola in genere. Il primo progetto strutturato è quello svolto all'Istituto Flora di Pordenone. Abbiamo formato quasi 100 studenti e una ventina di insegnanti, rilasciando agli studenti l'attestato esecutore BLSD. Il progetto è un progetto che si estenderà a tutti gli altri istituti che vorranno aderire, soprattutto anche in previsione della settimana europea della rianimazione cardiopolmonare Viva 2013, che sarà a ottobre di quest'anno. Quindi ci sarà una progressione anche della comunicazione, dell'attività formativa nell'ambito scolastico, in attesa anche che poi gli istituti si dotino anche della parecchiatura di defibrillazione, non prima di aver completato però un ciclo di formazione a livello base sulla rianimazione cardiopolmonare, la chiamata di emergenza ed ecco perché tutto comunque viene fatto sempre in collaborazione con la centrale operativa del 118 di Pordenone. Probabilmente uno degli aspetti più belli e più motivanti anche per noi formatori è proprio l'interesse che questi argomenti suscita nei confronti dei ragazzi. I ragazzi capiscono l'importanza del loro potenziale intervento in una situazione critica in cui c'è un arresto cardiaco e sono veramente molto interessati e anche molto abili nell'imparare le tecniche di base senza troppi preconcetti e condizionamenti che molto spesso invece gli adulti hanno e che li limitano e li precludono anche l'apprendimento di queste abilità.